un buongiorno a tutti gli amici di medico snake splendida giornata di sole e non mi sono perso l'occasione di a parte di girare questo blog e di farmi una bella passeggiata guardate adesso dove mi trovo si ad arese al centro commerciale bene stamattina però non mi sono fatto fregare portato con me tutta la mia attrezzatura da videomaker quindi galaxy note 3 che mi fa da seconda fotocamera e credetemi quando sono arrivato qua avrò perso circa 20 minuti per trovare il parcheggio e alla fine ce l'ho fatta adesso vi porta all'interno con me un buongiorno a tutti un buongiorno a tutti un buongiorno a tutti allora amici di medico snake sono all'interno del centro commerciale di arese volevo farvi le video riprese con la mia nikon b500 però non è stato possibile perché me lo hanno pietato anzi tutto il centro è pietata alla ripresa con la fotocamera però mi sono fatto furbo dal galaxy note 3 microfono collegato da una scoffa e vi porterò comunque all'interno del centro commerciale che si è un buongiorno a tutti che si è un buongiorno a tutti i nostri spettatori e vi porterò che si è un buongiorno a tutti i nostri spettatori e vi porterò in questo momento mi trovo al pian terreno del centro commerciale però se non ero sopra dovrebbe starci l'esperienza samsung galaxy al primo piano dopo se riuscirò vi porterò in questa esperienza con me e spero che tutto il video vi piacerà ok ecco qua mi trovo al pian terreno piccolo giro panoramico ok e adesso se ci riesco andrò all'interno di media world con qualche ripresa questa volta non sbaglierò media world eccolo la ok a dopo amici di medical snake sono all'interno di media world sto girando qualche clip di sascosto e soprattutto questo video lo sto girando senza farmi beccare perché le video riprese sono vietate ok vi portavo all'interno di media world ma shh zitti e non dite nulla a nessuno no 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 il secondo piano dove ci sta il samsung galaxy experience allora riaccomi qua amici di melo snake sono appena uscito dal samsung studio ho avuto modo di provare il vr con samsung galaxy notevole e devo dire che è stata un'esperienza bellissima purtroppo non ho girato nessuna clip perché come già vi ho detto in precedenza le clip sono guidate eccolo qua galaxy studio beh che devo dire fantastico allora continua a girare per qualche altro minuto poi dopo comincia a scendere perché devo incontrarmi con mio collega e andare a preparare da mangiare credetemi una gran fame amici a 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Amici di Milico Snake Fortunatamente avevo il Nexus 5X Il mio dispositivo professionale Che il Galaxy Note 2 mi ha totalmente abbandonato Adesso mi avvio verso l'uscita Anche perché Il mio giro al centro commerciale di Arese È terminato Come ho detto prima Mi incontro con il mio collega E andiamo a mangiare Ok amici di Milico Snake Adesso posso dichiarare terminato Il mio tour all'interno del centro commerciale Arese Come potete vedere alle mie spalle E in altri casi Se questo video vi è piaciuto Vi raccomando iscrivetevi al canale Fatemelo sapere con un like Bombardate quel pussante Fatemi sapere nel commento Cosa ne pensate di questo mio vlog E soprattutto attivate la campanella Delle notifiche Per rimanere aggiornati Sui prossimi video E noi ci vediamo sicuramente In un prossimo video Ciao Ciao Ciao